Sì, in sala stampa c'è il direttore generale Sartiano, allora direttore, insomma abbiamo visto una squadra per nulla propositiva in campo, nessun tiro in porta in pratica, forse uno solo nel secondo tempo, tanto nervosismo, che cosa succede? No, no, condivido pienamente, anzi guardi la prima cosa che a nome della società che rappresento faccio personalmente le scuse per queste persone che hanno fiducia, vengono, ci inseguono e questa è la cosa che mi rammarica per loro oggi proprio, insomma, in 97 minuti non abbiamo trovato l'opportunità di provare nel rettangolo della porta, questa è una cosa che un pochettino mi dà fastidio, rispetto a quanto ci proponiamo durante gli allenamenti in settimana. Secondo lei che cosa non è andato in particolare? Lei non è un tecnico, un allenatore, però insomma sicuramente poi a fine partita avrà sentito anche un po' i ragazzi, così ancora a caldo, magari poi se ne parlerà durante la settimana. Come mai, come si spiega questo chiedi visto oggi? Sì, ma io penso che sia più una questione attitudinale, mentale che tecnica, nel senso che anzitutto faccio i complimenti anche al Basto Girardi che secondo me oggi ha dimostrato che nel calcio serve la voglia, la grinta, la volontà e l'umiltà. E forse è meglio che anche noi, cominciando da me in primis, dobbiamo avere, non dico la fame, ma la grinta, la voglia, ma l'umiltà di entrare concentrati in 100 minuti di partita, quello che secondo me oggi è proprio mancato. Adesso bisogna ricaricare subito le pile, sicuramente saranno questi giorni che porteranno poi al match interno contro il Fossombrone, giorni anche di riflessione. Riflessione, riflessione per l'andamento della partita sicuramente, bisogna ovattare quello che ho detto ai ragazzi e fare tesoro di quello che è stato fatto oggi in maniera negativa e chiaramente dobbiamo migliorare sotto l'aspetto mentale. Secondo me questa è una cosa importante, leggevo l'altro giorno qualche giornale che anche i grandi tecnici a volte fanno capire che non è solo l'aspetto tecnico ma soprattutto l'aspetto mentale, quello che forse a noi manca per essere una squadra da tenere i primi posti, questo senz'altro. Un'ultima cosa, lei prima nella prima domanda, nella prima risposta accennato al pubblico, anche oggi più di 100 sostenitori considerando che sì è un giorno di festa però è un giorno infrasettimanale, a fine partita insomma c'è stato anche questo colloquio a lungo con il capitano e anche con i giocatori e con il tecnico, un messaggio anche da mandare a questi tifosi ovviamente che oggi non sono contenti della squadra. Ma hanno perfettamente ragione nel senso che loro essendo appassionati conoscono il calcio, hanno visto effettivamente 97 minuti di gioco, non abbiamo creato nulla per portare il pareggio o la vittoria, questo senz'altro. Sono amareggiato doppiamente, ripeto per la proprietà e pariteticamente anche per il pubblico che ci segue, che ama, che va a fiducia e questo che anche noi dobbiamo capire.